Una risposta, purtroppo, a quella del Governo regionale è insufficiente e inadeguata. Sia nel tavolo tecnico convocato dall'assessore alle attività produttive che nella risposta dall'assessore Campitelli, l'unico oggetto della discussione è il Governo regionale di cinque mesi fa. Ma io penso che invece oggi bisogna governare. C'è un mandato dato dai cittadini, raccolto dal 50% dei nostri elettori, che dice a questo Governo regionale di governare. Ma Marsilio ci è mai andato a Caramanico? Si è mai seduto su un tavolo così drammatico come quello che coinvolge circa 200 lavoratori, albergatori, commercianti, un'intera vallata e intere comunità? Non è possibile rispondere è stato chi c'era prima quando il tuo Presidente non si siede nemmeno a un tavolo di trattativa come quella. Di fatto, dal tavolo e dall'interpellanza, ancora nessuna risposta e nessun impegno da parte della società concessionaria.